Parma e Sassuolo scendono in campo nel derby emiliano del lunch match della seconda giornata nella pool salvezza nel ricoprire la posizione, nel dare anche un messaggio alle proprie compagne. Intanto il cross per Sabatino, grande occasione costruita dal nulla dal Sassuolo al minuto 23, arrivata con la punta sul lancio di Playdrup, Daniela Sabatino a centimetri dal vantaggio il Sassuolo. Alla fine andrà Benoit, direttamente in porta Benoit, cresce, super parate poi il tocco di braccio, calcio di rigore al minuto 25, prima svolta della gara, il Parma andrà dal dischetto. Un bolide, quello di Alice Benoit, cresce, non ha potuto trattenere e poi dal cross di Santoro, il braccio largo di Brignoli. Ma destro micidiale di Benoit, Parma e Sassuolo non hanno ancora segnato dal dischetto, andrà Paloma-Lazaro. Pronta, Lazaro col destro, cresce, neutralizza e si resta 0-0. Pirone che ne aveva cestinato uno in campionato, ha lasciato questa volta a Paloma-Lazaro. Brava cresce nell'intuire. Questo 0-0 è rimasto intaccato. Filangeri, il cross disegnato dentro l'area, Filgens! Eccola la risposta del Sassuolo al minuto 30, con il colpo di testa di Davina Filgens. Pirone mantiene il possesso, gli allarga Bardin, il cross dentro l'area, so fuori, Nagy rischia, altro calcio di rigore! Al minuto 46! Questa volta è stata Valeria Pirone ad arrivare in anticipo, Nagy in netto ritardo. Da capire se era dentro l'area, sì! Piede dentro l'area. Martinovic contro cresce, parte col destro, altra parata di cresce! E poi la palla che va in calcio d'angolo, ma cresce, ne ha parati 2 su 2! Cambiato l'angolo da Martinovic, altra parata di cresce, incredibile! Incredibile! Esulta ovviamente come se avesse segnato due gol. Bardin apre a destra. C'è Benoit che non viene servito, allora Pirone cerca Corbin col destro. Corbin cresce! Prende anche questa! Sassata di Corbin, cresce a mano aperta di restituire il pallone da parte di cresce. E Sassuolo torna ad attaccare. Palla morbida dentro l'area, Cleland col destro! Cleland! Calcia per Tomaselli! Il gol numero 200 in Serie A del Sassuolo. Lo segna Martina Tomaselli! 1-0! Il Sassuolo. Grave errore qua di Jelencic. Ciccioli fa quel che può, Cleland è brava e lucida di non calciare la seconda volta, ma appoggiare per Tomaselli. Parte col destro Alice Benoit in porta cresce! In chioda anche questa! E non c'è più tempo! Il Sassuolo vince! Anche questa!